Sì, allora questo progetto va a implementare un sistema che era già presente sul nostro territorio e che era costituito da 42 telecamere di videosorveglianza e altre 6 postazioni di lettura targhe. In questo caso abbiamo implementato il sistema, questo consente di monitorare quelli che sono i siti non solo del centro storico ma sensibili e soprattutto con queste nuove 5 postazioni che abbiamo implementato siamo andati anche ad inserire un sistema di videolettura delle targhe che si pone in uno dei punti di accesso al comune di San Giovanni Valdarno e che poi consentirà appunto di monitorare i veicoli in entrata e in uscita dal nostro comune e questo è sicuramente un qualcosa di utile anche per la collaborazione con le altre forze dell'ordine sul territorio. A questo si aggiungono invece quelle telecamere di videosorveglianza che consentono un controllo su quello che accade nel territorio per aumentare quello che è il senso di sicurezza dei cittadini ma anche magari per riuscire a controllare quelle che sono zone in cui non sempre è possibile fisicamente attuare un controllo o un presidio costante e quindi appunto per evitare anche il creare o comunque il verificarsi di quelli che sono poi dei piccoli atti di micro criminalità o comunque appunto di vandalismo. Sicuramente ce ne sono appunto come detto sono 42, una appunto è questa nel parcheggio retrostante della stazione che è sempre stato sentito un po' come un punto diciamo poco sicuro o perlomeno che i cittadini anche alla luce di quelli che furono eventi dell'anno passato avevano necessità di sentire una maggiore sicurezza soprattutto magari chi usufruisce appunto della stazione magari anche in orari serali o tardi. Ci sono poi altri punti che abbiamo sempre valutato che sono quelli nevralgici in cui ritroviamo spesso una maggiore aggregazione delle persone appunto non soltanto nel centro storico ma anche in quelli che sono altri parchi del comune di San Giovanni.